Il sindaco di Bosco Reale presenta la sua giunta, 5 gli assessori, 3 uomini ed una donna, Ida Trito, Francesco Faraone, Gennaro Langella, Francesco D'Aquino e Caterina Raiola. Le deleghe non sono state ancora assegnate. Il primo cittadino ha anche annunciato che poiché le liste che lo hanno sostenuto erano 9, probabilmente in corso d'opera ci sarà un turnover degli assessori per consentire a tutti di avere una rappresentanza. Durante l'incontro con i giornalisti il primo cittadino ha tracciato un bilancio delle attività portate avanti nel primo mese di mandato ma ha anche illustrato quelle che saranno le azioni che saranno intraprese nei prossimi giorni in primis, attenzione puntata sul piano urbanistico comunale. È una priorità per il Paese, per le esigenze dei cittadini, per chi ha un'azienda agricola e aspetta un'apertura di una serra, per chi vuole fare un condono, per chi vuole fare un bed and breakfast, per chi vorrebbe magari abbattere e ricostruire, per chi vuole aprire un'attività commerciale o turistica. Era un impegno, ma veramente un impegno, ed è stato fatto già subito l'annullamento di tutte, e adesso stiamo già preparando gli atti da portare in giunta per poter ripartire finalmente da capo. Il cuore di tutti i problemi è legato alle difficoltà economiche che incontrano i comuni. Qui non mancano e tra l'altro lei ha dato una notizia, insomma per chi ascolta, ha del clamoroso. C'è addirittura un contenzioso da 44 milioni di euro, ho capito bene? Sì, ha capito bene, ma in questo momento vorrei aspettare perché abbiamo solo appena iniziato. Ma non è solo l'unico contenzioso, ce n'è un altro di 224 mila euro, ce ne sono una serie anche di piccoli contenziosi, ma tanti contenziosi che, come dissi, a 1.500% diventano una cifra enorme per un comune che ha avuto delle difficoltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.